Musica Lei è nascita il 5 giugno 1981. E' un tremendo cantante, percussionista. E' il nostro bai Pape, c'è Edra Barromeo. Nostra bia con Gizzi, non dalle clave. Musica definita Università capacità per lailon POLI. Vabbè, vabbè. 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 che vabbè. Vabbè. Come vi ho andato a Pompolunti? La Pompolunti è stata in Pompolunti, in 1927, in corsoio. Mi c'era anche di Mercedoran, quindi non è stato un po' di casa con Giubi Doran, quindi non è stato un po' di Mercedoran. Noi siamo tutti i nostri primi, che abbiamo fatto investimento, e mi diceva che aveva un gruppo di cantamento, se non si interessava, e mi diceva che aveva un gruppo di cantamento, e mi diceva che aveva un coraggio, e mi prima che era più grande e non aveva mai avuto. Se aveva avuto qualcosa, aveva mai avuto, aveva mai avuto, aveva mai avuto, aveva mai avuto. Queste aveva 6 anni, e aveva mai avuto a Roma, aveva mai avuto. Se aveva mai avuto, aveva mai avuto la tua tua base, aveva mai avuto unaufenà, non aveva mai avuto la tua base, aveva mai avuto la tua base in la casa di Mercè durante una casa, aveva mai avuto, aveva mai avuto. Si, aveva mai avuto la tua base? Aveva per la pace con le avuto in gli stavoli? Sì, sempre, sempre a Mercedes ha un piano, quindi non c'è il tono via il piano. Il piano non c'è il tono. Quindi il Doremi fa sola, quindi così è. Non c'è un po' un verbo, perché è una scena. Quindi noi siamo 30 anni, anche un gruppo, un gruppo diverso da l'antica. Quindi sempre c'è un solista e c'è un canto, quindi noi siamo già parte di un corista. Quindi questo è il nostro treno. Quando mi avevo come, mi lui avessi mi accompagnato, avessi mi accompagnato, per me non c'è un personaggio che conosceva parte della musica, Sì, ora è in grado a dire che la verità di usare la voce. Quindi sempre ho detto che ci stavano in un tico straffato, non ci stavano in fronte. Quindi ora è in grado di usare la verità di cantare. Se non si chiede un po' lontano, è stato un upgrade. Poi c'è una banda di solamente, non ho visto che già sapere, non ho visto che già sapere, non ho visto, non ho visto un portretto, non ho visto un videoclipo, non ho visto, per il tempo non ho visto. L'opera di una cosa. La cosa è molto grande, e poi la nostra cover è niente per l'Anthica, e siamo in tempo di Mamalu. Mamalu! E poi ci siamo in questo momento, che ci sono delle scuole un pittonante, che ci hanno fatto come cantare, e ci sono presentazioni in cui si è cantare, ci sono delle misa. E questo è qualcosa di più. E poi ci sono parole. E poi siamo in questo momento. si, certo, ma non andare solo in un giorno? non, ad un giorno in un giorno nonндono stata anche solo non per straf senza di me sogarvi io non sia doveva ma comunque in me sogarvi ma non mi ha detto una cosa mi ha detto ma è un'unica mi ha detto mi ha detto ma è un'unica quindi è il giro e poi e poi abbiamo detto che sono topi Penso che non mi non si canta più. Poi abbiamo fatto un po' di fondo e sempre che ci sono di Barì. Con il 6 anni fa, c'era un gruppo pubblicato, per le pari, per la misa, ma solo usando Barì. In ritmo, ritmo. Lo più ricordo è diversa, cosa stavano. a presto di fare una misa, una orgel, piano, i bordo, e così, non è così. Allora, siamo in un gruppo così piccolo, e non si cantano, ma non si cantano, ma non si cantano, ma non si cantano di ritmo, ma non si è un po' di cultura, e non si chiede un po' di paese, ma che ha un po' di cultura, e quindi non si è un po' di misa. Ma non è una cosa facile, Seidra, per mantenere il tono, per mantenere il ritmo, non c'è melodia. C'è questo? Si, quando io viviamo la melodia, non c'è tutto il preciso, non c'è l'acqua, c'è l'acqua, ma non c'è l'acqua, ma non c'è l'acqua, ma non c'è l'acqua, ma non c'è il tono, ma non c'è l'acqua. Non c'è i n'acqua, cioè un personaggio si è una cosa ma anche più diversi spiegati. E tutti i nostri amici, ci sono molto liberi. E poi con la prima volta, non viva tutti i nostri amici, ma anche per questo. Sì, dopo aver provato un passo. Sì, dopo aver provato un passo. E quindi, l'alimentazione di un po' di qua. Quindi ci sono un po' di più grande, ma anche per questo come la melodia. E se è veramente bello. Se io ho cantato fri, ho trovato il dentone, per farlo buono, mi piacevole. Se io ho amato tutto il barri, mi piacevole. Mi piacevole. Sì, mi piacevole. Mi piacevole per toccare e parte di barri. Dopo ci ho trovato un stop, un bambino in Holanda, ho studiato in Holanda, non faccio nulla con la musica. Dopo ci ho trovato un bambino nel 2002. Nel 2002 mi riconosci con Elia e Senia. Quando mi riconosci con Elia e Senia, un giorno mi riconosci un tambon, mi riconosci con il coro di casa. Questa seria ilusione, mi riconosciam su un bambino, ma mi riconosciam il anch'io in! Mi riconosciam un bambino al cantante. Nel Vigilato, mi riconosciam tutti i nostrición, se ti riconosci la musica per i bambino all'arghicolio. e adesso mi dicevo che avevamo le coraggio. Quando lui ho canto con Kanal ele, ho un progetto di Kanal o Tela, Samu e Elementsa. Nel momento tu hai pubblicato l'Istambul, mi hai potuto partecipare nel progetto di Kanal Eimportant. Appesciano anche, si non mi viene solo, quindi si cantano il tamburo. Ok. Quindi, si gli hanno avuto, altamente più senso, la bimba si senti in grado di esservi la nostra, in grado si paga questo tamburo. Ma ne subconsciousmente c'è un tamburo. Pagano questa unica tono, se non ci si senti a grado di usare, e la discussione della bimba si faccio. Quindi si senti un ambito che è un tamburo例えば? L'algo fino? L'algo fino? L'algo fino a questo tipo di cantare, e cantare. E' un'ata. E' un'ata più difficile con il tambor. Ma non è un'ata più difficile. Si, perché si chiede a cantare, se chiede a pregare, se chiede a sereo, se chiede a sereo, se chiede a pregare a Dubai. L'algo fino. L'algo fino a questo tipo di Queen, se chiedevano si chiede a la le 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 le, la 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 la. Considera una cosa. Chiede a Gian l'algo fino a QoC ha detto, e in la base. Mi hai detto che. E lasciano fare un'結果... ora mi dice, oh, Ellen che mi dice, proiecto, e mi dice, sa che si, allora io ho stato raggiunto, ed ho 22 anni, e mi dice, è raggiunto, mi dice, sa che. Però, trovi che ho coraggio, ma vai, sì, ma segui che parte di Elia, adesso, tu cammino junto con Elia, canta coro, e ora Elia introduzi mi nel Pincho, Pincho e su gruppo, sì. Pincho e su gruppo, un compositore, un musica che conosciva, che sopra il mondo di Tambù, ma il Pincho era una parte di Pincho e su gruppo, e mi dice, tre, quattro composizioni che mi chiamano, anche Pincho. Si, Pincho mette componente, e mi dice, che mi chiamano, e mi chiamano, e mi chiamano, in teoria, ho andato, che mi chiamano, e si, questo è un il tambo. Si, ok, ok. E se, questo è la corsa, il tambo solo. Mi chiamano, e se il tambo è un tambo, ora mi chiamano il tambo, e se il tambo si chiamano, per quanto la danza posso tenere, non mi chiamano, e se la corsa, e se la corsa, i tanti di un manio, Ah, ok. Questo è il anno del 2004. 2004. Il tempo in canadone è stato... Questo è un festival grande, sì. Però non è grande nel senso che ho pagato per poter. È stato un luogo del club bichal, ho fatto 20 carti, ho fatto un'abomesta, ho fatto un'abomesta, ho fatto un'abocchia per venire. Il tempo è stato cantato con la gana. Si avessero non c'è, ma con i uditerati come a we. e non c'è un'abomesta. Non c'è un'abomesta commerciale. Non c'è un'abomesta commerciale. Non c'è un'abomesta commerciale. È un'abomesta. E io, Giovanni, mi canta. Vi ho fatto il treno, poi lo faccio un gruppo per noi. Mi canta. Mi hanno pensato che è difficile, ma io non c'è un treno. E io gli ho fatto un'abomesta, che si avessero chcielare, ma io gli ho fatto un'abomesta. E io gli ho fatto un ritmo, un'abomesta, la tumba. Quindi ho fatto un'abomesta. E io gli ho fatto un'abomesta. Quindi ho fatto un'abomesta. In questo modo ho fatto un'abomesta. Ma io gli ho fatto un'abomesta. C'è stata una scuola e inserita a cui c'è stata una scuola. Poi c'era una scuola. Quando i cantavano i cantavano di una cosa che non c'è, i cantavano i cantavano, i cantavano i cantavano. E' un'administrazione che con la prima di cantare a un pubblico. Se volessero ombra, io ho dovuto fare solo un po' di 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 più. Giovanni, mi ha detto che sto a senso preso e mi ha detto che sono io, Ma siamo partiti qui. Ma siamo partiti quando siamo partiti a 10 anni, a settembre a 10 anni. E io ho detto che è stata una esperienza, ma non ho visto che non mi partecipi. E' un'abitura, ma è un'abitura. E' un'abitura, ma è un'abitura. E' un'abitura, è un'abitura, è un'abitura. E' un'abitura, è un'abitura. E' un'abitura melodiosa. Si, si. E non, come si dice, cantare ma non è una melodia, ma il ritmo è diverso, è più perfetto. È più facile. Quindi non c'è una prisa, ma non c'è una tambura, ma non c'è una parte di tambura, ma non c'è una parte di tambura, ma non c'è una parte di tambura. Ok, ok. E ora, questa è a? Buoneiro? Si, buoneiro. Non c'è buoneiro, quando fu nel 2004. C'è buoneiro? Si, buoneiro. Ma poi è buoneiro mi pensa che è buona che ho fatto con una cultura, però ancora non c'è mentre mi dicevo che bella. Quindi abbiamo ancora un amico di armada, ai suoi un gruppo di tambura, e mi dicevo che un giorno e mi diceva che è buono, ma nel corso, il tambù è che la cosa che non si diceva, non si diceva in un'altra forma. Quindi quando si diceva, si diceva, si diceva, si diceva, non 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 si diceva. Vestata, inattante, orte dicendova che ball resta dall'alimentazione, momenti dall'oltre dicendova. Quindi io mi fin Licht mi da domi, per tutte queste dicendova che non si diceva, non mi capítulo coraiti a questo giu centrale, ma si diceva. E io non si diceva, ma oggi mi huge turno, non la stiamociva, e non si diceva Tetander, non sono la app emozora canta widgets. con l'Oldre France, se non mi cantano con Chiqui, questo gruppo di laser è un gruppo GAS. C'è una differenza? Il gruppo di Tambù, di Corso, che sono di Bonaire, potete sentire una differenza o non? È una differenza. Si è una differenza, sì. Se una persona di Corso, potete toccare il barri, se potete ascoltare, è tutto diverso. Se un Bonaire, è tutto ok. E non mi senti una differenza. Di Corso, tocccare un po' più sera, perché se non so, a Cina Bonaire, tocccare un po' più abri. E se mi ha riparato, è differenza. Quando è parte di Chappi, ovviamente è parte, è facile, però Chappi è anche, e tocccare un po' più, armonizzare. E se non so, però troppo è buona, è buonchina, però tocccare un po' è armonizzare. Sì. E si, a questo è il ritmo. Sì. È un chavo. È un ritmo. Quanti a così. Sì. Nel momento di cantare... In questa melodia... Adesso, in questa melodia... Il tono, in cui mi senti un disco con... ...mi senti un disco, vedi qualcosa di soltanto... Se non mi senti un tono, ma non mi senti. Se non mi senti un disco, ma non mi senti un disco... ...in modo, quando mi senti, Ora un po' che fa fa playa in timbron, ma il l'abbiamo andato molto lì. Il segno è l'ambiente, l'ambiente, il delle melodie. L'ambiente è l'ambiente, l'ambiente è l'ambiente. L'ambiente è un piano come due corrisi, come questa è l'ambiente, l'ambiente è l'ambiente lo vengono facendo le canhamioni. L'ambiente, l'ambiente è l'ambiente. FRI, QUA, TAMBO. Non si, non è un po' di marano. Non, non è un po' di marano, ma non è un po' di sidi con, ma non è un po' di sidi, ma non è un po' di sidi, ma non è un po' di barri, ma non è un po' di tele, ma non è un po' di tambo. Correcto, correcto. Abbiamo un tempo, abbiamo un gruppo, Zonido, Zonido con Z. Con Z, sì. Zonido con Z. Grazie per l'altro, mi è una cosa, ma non è una cosa, mi è una cosa, ma di partecipare nella città, Adesso? Adesso, nel 2008, con Glenn e una gang. Con Glenn e una gang. Sono chiamati! Sì, in un po' di fattaggio è un po' di sidi, non è una città, ma non è una città e ne sono chiamati. Ma non è un po' di fattaggio, ma non è una città, Mi dice, why not? Io ti sembra solo 5 giorni per il festival di tumba. Quindi stai a tutti i compagni di tumba. Mutta io mi sento lui... Mi sento anche a lui, mi sento di puro. Perché per più, è stato divertito. Quindi, siamo subiscali per una tumba. E io ho avuto di subiscali per una tumba. Si riesco a sb... ...abbiamo a subir... ...la baracola. E lui chiara oggi miacciono e mi accettavano. Quindò mi dico con una banda per accompagnare per campanArmen o tutte le tend gentili. Quindi prima che ho avuto male dei g cheordable vivano sono piazza dalbepolenting, come servo? Un blocchi che avevano creato solo per venire a cercare di fare un keyboard e un timbal. Un keyboard e un timbal? Un bracone da quarta? Quarta, un triangolo, un uiri. Un uiri. Un uiri. C'è un digio che è perché avevo acquisto che va a giocare solo per a giocare di lavoro... ... in questo modo e vissuto benvencia con lui, mentre avevo l'esperto sbagliata al gesso... Ok, ok. Sì, sì. Sì, dopo 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 nel20... ... dal 1980, anche dopo 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 dopo... Sì, sì, sì. E basta dopo 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 io ndeltriamo in Hociawek. Sì, ora sono finito in Hociawek. perché siamo in Road Fire, siamo arrivati a Jump Off. Sì, siamo arrivati a Giauno, come si chiama? Angelo Lou. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, siamo arrivati a Amos, siamo arrivati a Zuheli Marchena, Laika Molina, noi siamo arrivati a Bomet, come direttore musicale di Zonido. Sì, siamo arrivati a Mestre Böck. Sì, siamo arrivati a casa. Sì, siamo arrivati a Sì, siamo arrivati a Mestre Böck. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, siamo pari, che pensare, se non cerco lui bisogna fare un bene così e le cose, si non sai chi dice qualcosa. E si dice un pò, la mia t άnita che è un pò, ma un cucinaio, ma qualcosa, ci sono arrivati aESSA, E' un biaque, però non è risultato, ma non è risultato, è un tema di tumba, criollo. Passi a me da vista, di con, questa è la mia opinione, di con, ciò che c'è da corretrassi, è tumba di corso, cammino con noi, ma c'è un ritmo con noi, per creare la forma, ma c'è un ritmo con noi, di una temporada, cantando, per esempio, di carnaval, però usando il nostro ritmo. Che cosa pensa di questo? Mi pensamento è anche un tumba criolloio, non c'è un biaque, ma c'è un biaque, ma c'è un ritmo criolloio che non c'è un biaque, ma c'è un biaque, ma c'è un biaque, ma c'è un biaque, ma c'è un biaque, la cultura è su principale. Per cui l'accionamento ma c'è un biaque, questa prima della mia grandiamo if Đ possible, adesso non ha otter subito una tumba di Corsau. C'è una tumba di crioio, se vogliono lì e conseguire un uso di G na me durante s detto. Per me,ISA M through sindi mai si parenthzo, migla這邊 della crioio, mostro di emoti che troppo. Se non ho comparbo con Corsau, iko sempre lì willono una squirtione diversa, o害 è un personaggio diversi. Non si trattano, non si trattano, ma non si trattano, ma non si trattano. Non si trattano più le cose, non si trattano più il ritmo. Ma c'è una bandana con una bandana, non si trattano più facile, non si trattano più le bandano. Ma la bandana di criollo è in un'opera qui. Certo, in teoria è in teoria più... È più attrativo, ma se le bandana di criollo è un fanatico. Sì, sì. E il tuo hobby per i criolli? Sì, quindi per quanto riguarda i criolli... Ci sono i miei pensamenti. Sì, i criolli mi piacciono, mi piacciono. Mi piacciono, perché il ritmo mi piacciono. È facile, ma è più facile. Se non mi piacciono i criolli, solo per fare parte di tutto. Se non mi piacciono, non mi piacciono. Sì, sì, le lettere non è in direzione del carnaval. Sì, sì. Però il ritmo è quello, i criolli. Sì. Non ho visto un ritmo. Pensi, pensi. Non puoi pensare. Non so come un G6, non dà le clave. Che te conosci. Non so come un G6, non si mi piacciono. Non so come un G6, nonvoi, ossia. I willi si delle prodigio, mando una polpa. Non so come un G6, ma sono un G6. Non so come un G6. Non so come un G6. Montura per brel di solo di differente marca Tu ne sai che non tanto blanco e che cambia colore di solo Optica antillana, dencaia grande 21 Servizio di tutto tipo di brel per miraleo, lesa, bifocal e multifocal E anche speciale pastur a noce Montura per brel di solo di differente marca T-lens da stop e anche di colore A brì di gialluna pacciabiane 8 ore di rosso di maite e 2 ore 6 ore già tardi E già sabre se con ausprac Llamo a noi nel 717-8815 Whatsapp 795-8815 Optica antillana, servizio di tutto tipo di ordine Si non toca e canta con Giovanni Mercera Cuida la salute mental si non toca un instrumento musical Non to oferece leas di drum, quarta, guitarra, canto e piano Si non toca bocantica preferi Clabber! Tutta domingo a notte, metà di 10, curi per di chung Ciao Ebs 10 per 9 Sente, qui nella nostra tv, il canale netamente buonareano Plataforma Frandu Lero TV Presenta Passati Clabber Cast di Emotion Camina nostra crea spazio pa' crecemento mental e emocional E assina elevare la vita personal Non ti importa la raza o sexo Cast di Emotion Vitamina pa' mente, alma e espíritu Non perdere Cast di Emotion Tutta domingo a notte, metà di 9 Qui nella nostra tv, il canale netamente buonareano Erencia da istoria, cultura e naturaleza Nos grandi nantabina palavra pa' contenuosti in ambida E bario na onda na alanta, scolco na nabai, trabouco na asi e hopi mas Ta' importante pa' nosa nostra istoria, pa sa che non sta Di onda nosa vim, pa sinasà, na onda nos mesebai Erencia da nunabo è llave di passato e apporta pa' futuro Share nos website, cubosernan queri den exterior E la ganan tambe experienciar nos programación www.nostevebonare.com Wagnos TV, una cubota Televidente, Noste Bergdendale Clave e di dos parti Noste apropiando con Xaedra, Baromeo, Abuenocchi Hopi interessante Xaedra, manera, non stava da conversar Wori di etumba, criollo Pano non vende, non comprende mi malo Ah, mi gusta tumba Mi gusta tumba Pero Cada gente conan cos Cada gente conan cos Noste in nostro ritmo Non c'è niente come cos Noste in nostro ritmo Noste in quanto mantenere Si Xaedra, ma s'ichico pretende Anche non si non cos E'o eh E'o eh Esa è il mio pensamento Chodà Noi 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 E' ok, ma non si comincia a trovare nella direzione. E' un anno dopo di Covid, non si trova un anno e non si trova una tomba criollo. E' un po' di pensamento. E' un grito così. Si può. Canto Criollo? Si, Canto Criollo. Canto Criollo, nel 2017. E' la prima prima di partecipare nel Canto Criollo. E' quello che ora inspirerà un lector di un saia. Un saia? Si, un saia. Come si? Si. E' un saia. In una malora, è stato Bicololo. I un saia in un saia. Però noi, che vi facci come? E' un amigo delle feste San Marcos. E' un saia. 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 Ora mi diceva, sì, sì, ho un'idea, mi voleva partecipare nel canto criollo e mi ha dato il uso di essayo. Ok, ok. Questo è una cosa che mi chiede a comprare, ma è il West di Santiago, un tremendo compositor, per aiutare anche con il coloro e la mia voce. E' parte della cultura. Mi diceva, ok, mi chiede a Puntra Weber, verso le puntra delle persone che mi chiede a Puntra Weber, e non mi piaceva di barri. Quindi non mi piaceva di barri. Salomon è quello che mi piaceva. E se non mi piaceva, ok, ma poi mi piaceva, mi piaceva, e mi piaceva, e mi piaceva. Non mi piaceva. Non mi piaceva, ora mi piaceva la lettera. e ad ancora Battaglia della Cama, arrivo a un tren proprio a cui mi rifer porterò chiamare allora allora mi parla conto e mi trascimento. Mi dicevo fra i suoi sessi d'all British, mi diceva che usavano la barra di una cosa sessica? Mi diceva che sono andata a un giudice di un giudice e mi diceva che sia sagrata così probabilmente cantano. Nel mio amico, Giovanni, mi diceva che diceva che non fa presente, ma come si canta? Gesù una suona con la conoscenza davvero chiamata la mia religione è un peggiorno mi dispiac暖mente con la mia religione non c'era un bello dove stai a fare la mia religione sento questa cosa Ma cosa succede? Lo gavano mi dice, ma ne, non mi sai, ma ne? Mi dice, ah, lo sai a bulla, oh. Cantando trovo, per me via, per me, per me via, cantando, non mi dice, sì, madame, non c'era così, ma com'è stato guante, sai, guante, sai. Mi dice, senti, ma ne, melodia, ritmo, cosa cambia il traste. Qu'è cosa? Qu'è da sé qui mi dice, no, però se io non saca la mia cabeza, e si, ma cambra. Come me dice, ma cambra. Mi dice, no, non c'è la mia cabeza. Arranosto, buono, mi dice, 25 anni da toccan un bari. Nunca, nunca, un cantante ensayino un gay, mi dice. Mi dice, no, mi dice. E dice, sai, abbatta, abbatta un bari e l'avecata un segno. Mi dice, do Nando, come si hace ritmo, che mi si cambia, eccetera. Non sei. Deve essere una brucia, e cantica per la questione e il risultato è buon sì. E il Dio Ema sale di tre finalista con cantica, mi ricorda la canzione da un rincombo por conta con me. Rincombo por conta con me? Si, però ti ricordi? Si, però ti ricordi? Non c'è, non c'è figlio. Non c'è figlio, Ehi, vanno qui un rato. Che che saia, che saia. C'è figlio, che si, però ti ricordi? Che si, però ti ricordi? Rincombo por conta con me? Rincombo si urlo boqueza Emo ti buttati con mai inspirati Cos'è le braggio di pili griglia, un dia ma presenza, e te avemita qui residencia, e il tuo mondo ti attrae, tanto a mite, 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 c'è le braggio, tanto a mite, c'è le braggio, un peta di chilea, e c'è tanto in mentirosella, poi sei ma deciditi, con un po' cos'coltacumi, central da bucultura e folklore, primordial, con norma e valor, non conosce parte di vostoria, l'amor mi destrezza, di rincontro, di amas mi che sae, di contradiccio, di con norma e valor, della storia di San Pedro, di San Juan e Sibadà, con un po' cos'colti di maggi, c'è quando mi tartalà, su carri è un felipe, bravo paloarselà, per principio è crescimento, di mi conoscimento, con mi che pavosa. Tem mitin rosella, non mi questa è ben gilea, mi tartalà di sì di, rincontro, da me ha qui. Rincontro, bocoltacumi. Rincontro, bocoltacumi. Pega despego, tele rachon, riba, cultura e tabichon, purro, turco, bo ricontro. Rincontro, bocoltacumi. Con un esforzo si cheia, mi tanto mi chilea, tanto mi cirotecia. Rincontro, bocoltacumi. Canta con l'amore Teo ambiente festivo Celebrazione emotiva Mi tavolio adottivo Mentre tanto mi te Tutto il mondo ti attrae Mi te Pocota che sei Tante mi te Mi te Pocota con l'amore Mi dico Pocota con l'amore Mi corso Pocota con l'amore Por 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 Si manda, san Pedro đi, san Juan, da bontan tu mit a canta che cannowi tata Io ti mandi il felice con la perna e i walla nana, sottotità di lantirizò, contacumi Chiawewa di lantirizò, contacumi, contacumi Grazie per il crescimento e il mio conoscimento E con me che va a mozzare Non tengo mentiroseia, non mi chieda, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Tra di sì che crescemento, di mi conoscimento, riconmi che fa bozzar Tante metti in rocella, l'omità di mi chilella, mi cantata di sì di Riccone compratamente quindi Riccone bo maioria vuoi cantare con me Riccone buoni Riccone bo guarda con skin Riccone bo guarda con me 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 Bo guarda con me Riccone bo guarda con me Ora mi fa tag Напрimm 230 Qu'è il secondo? Il secondo è stato stato nel 2019. 2019? 2019. Mi sono stato fatto un attacchi di un carnaval, mi sono stato fatto di un attacchi, un attacchi di un attacchi di Tico Valentino. In 2019, si sono stato preso con la canta di canto criollo. Mi sono parlato di un carnaval per Tico Valentino, quindi ti parla di disegnamento e poi lo vedo e poi sai mi sembrava partecipare dietro e poi mi dice non è chiaro e dici non sai guarda corre un corso e poi io ho detto ahi che cosa cosa lui mi dice ahah un cosa ma non mi dice un cosa serio ma ma non può essere un'altra ma cosa come come che è idra io ho assicnato che la trae la e lei manda edemo per me per scucia, comenta a vostè, mi dicono, è chiaro, ma non è qualcosa di difficile. Ma domani è in tempo, ho treni, mani c'è in cinque, con me che ringa dentro, ho fernon, con un amico di me, con un docene di papiamento, e con me ringa, ma cosa, ma prego, ma letra, ma si è toccato, ma si è in. Quando non c'è contenuto di letra? Ok, e contenuto di letra, ma non c'è, si è in. In toccato a mia volti, ma non c'è, mi racconto, ma non c'è, ma non c'è, allora mi chici di figli, a mia volti, ma non c'è, e adesso ci sono i ragazzi. E adesso il secondo tempo, ci sono i ragazzi, e adesso non ci sono i ragazzi. E adesso, ci sono i ragazzi di noi, e adesso ci sono i ragazzi per i ragazzi e per i ragazzi che hanno fatto partecipare in marcia di cima. Ok, ok. Gara d'ora, assoluto di tempo, 2019, no? 2019. L'ultimo... L'ultimo Young Boys, l'ultimo band, l'ultimo cantante. Ma immaginavo! Mi misera guarda assina tanto, però è stata un cos'è, un cos'è mi sembrava di fare un anno si canta criollo, se si mi ti gusta. Dur anni mi sembrava di bella, mi ti guste, che il mio ambiente è completamente diverso. E se tu un cos'è, 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 ma non è proprio il cos'è, un cos'è il cos'è. È il cos'è, un cos'è. Un cos'è. E il cos'è. Buona bubida, ora ricotta zona, mi curva da belezia, mi sanguerda vivo, vivo parte cultura e erratà. Cosa cococha, nesta cococha, cococha nesta cococha, cococha nesta bai, faccio qui si marico, mi topo per rumo e te cococha, 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 cococha. Dia di rincon mi no po' era, ma che curva no ta' duna, ta' grandi mi ta' vira, ta' umbida su mi ti, si ma ganta gana fa' sa, to' es curva da cre' che c'è, ultimo dia si, cococha me mita bai, cococha, 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 nata para la rusa, pico ya, eat upa bai, go! noダonga bai, to' es curva da cre' che c'è, cococha, 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 Whit 것'rano cocos herapas, No mi potera bo, cocochanco, cochanca vai Mi mananta, iangatri, ta calla Conta, si queda si va a far No mi potera bo, cocochanco, cochanca vai Pantennos di vida Pantennos di rosella, metes goza No mi potera bo, cocochanco, cochanca vai No mi potera bo, cocochanco, cochanca vai No mi mananta, iangatri, ta calla Conta, si queda si va a far No mi potera bo, cochanca vai No mi potera bo, cochanca vai No mi potera bo, cochanca vai No mi potera bo, cocochanca vai No mi potera bo, cochanca vai No mi potera bo, cochanca vai Ch�도 Anna mi porta mi poi è galla Kogocha kogocha qua Yeah Mi tồi Kaido il pochera po Kogocha kogocha qua Kaido il pochera po Kogocha kogocha qua Kogocha Pogocha Sayang S Care Sì, sì, sì! 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! 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 Sì!